Il cadavere di un uomo di 71 anni è stato trovato in mare nei pressi di Punta Licosa nel pomeriggio di ieri. La vittima, Osvaldo Giannella, marescialo della Guardia di Finanza in pensione, sarebbe uscito per un'immersione venendo colpito da un malore fulminante che lo avrebbe ucciso sul colpo. Sul posto gli operatori del 118, gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli ed il medico legale, che dovrà chiarire le reali cause del decesso.